E di Piana è ufficiale il semaforo verde per i campionati italiani di surf a Capomoran, un evento targato Eolo. Sì, domani, venerdì, domani alle 10 partiranno le gare e aspettiamo le onde che sono previste e quindi si andrà in scena sia venerdì che sabato per questo campionato italiano che arriva proprio sulla conclusione del waiting periodo che scade appunto il 15 di novembre. Tre specialità in gara? Si sono ridotte a due le specialità perché sono il longboard e lo short. Purtroppo per quanto riguarda il bodyboard non ci sono stati il numero sufficiente di atleti per poterlo fare quindi andranno in gara sia gli short uomini e le donne e il longboard uomini e donne. Comunque con una platea di partecipanti molto molto importante. Sì, ci sono tutti i migliori atleti italiani, ci sono il tabellone da 32 completo per quanto riguarda lo short maschile e è un buon numero sia per il long femminile che con quello maschile. Quindi insomma ci saranno delle belle gare. Le condizioni soprattutto da sabato sembrano essere quelle ideali. Sabato potrebbe essere la giornata migliore per quanto riguarda le onde. Purtroppo abbiamo dovuto attendere fino all'ultimo l'arrivo del mestrale che comunque non è arrivato perché queste correnti da sud ovest hanno caratterizzato tutto questo mese di waiting period. Quindi abbiamo atteso, atteso ma ormai dobbiamo portare avanti la gara. Eolo ha un suo portacolori. Eolo ha un suo portacolori che è Joao, che è un ragazzo italo-brasiliano che ci aveva chiesto appunto di essere testato con noi. Noi con molto piacere l'abbiamo accolto. Speriamo che porti a casa anche un buon risultato perché insomma è molto bravo, determinato e ci piace molto. Ciao a tutti, piacere essere qua. Prima le Olo mi hanno dato un'opportunità molto grande di rappresentare loro. Sono molto felice con questa opportunità. Forse credo che abbiamo una buona opportunità di vincere questa gara. E' un piacere e un grande onore di rappresentare loro. Sei già stato a Capo Manu dove si disputeranno i campionati? Sì, sono stato lì. Adesso sono lì, abito lì. Le onde lì sono bellissime. Sono fiducioso con le condizioni lì. Chi pensi che saranno i tuoi avversari? Chi sono i più forti? Non so, ci sono buoni ragazzi lì, anche i ragazzi che sono nel circuito mondiale con me, gli altri italiani come Edoardo, Francesco, Brando, Matteo. Conosco lui ma ci sono altri ragazzi molto buoni, buonissimi anche, che non conosco ancora. Ma il livello è molto buono e sono, come si dice, nervoso, no, ansioso per fare la gara lì. Domani sembra buono, ma un po' più piccolo. E sabato sarà un po' più grande, ma ci sarà molto vento anche. Ma quest'ultimo fine settimana c'era molto vento, ma le onde erano bellissime. Forse sarà anche bello. Qualcosa sulla tua carriera nel surf? Adesso io sono nel circuito WQS, che è come la terza divisione del circuito mondiale. Sono nel circuito europeo anche. L'obiettivo è qualificarmi al Challenger Series nella prossima stagione, 24-25. Ci sono un po' di gare anche fino ad aprile del 2024. Anche forse a vincere questa gara e qualificarmi a Porto Rico per l'Isa Games 2024 e chissà una vaga olimpica. Eri già stato in Sardegna? No, questa è la mia prima volta e sono incantato. Grazie e in bocca al lù. Grazie mille.